Andrea, allora, si avvicina questa partita con la Cittadella dopo la sconfitta di Lecce, c'è stato anche un chiarimento nello spogliatoio, un colloquio con la società, non si può più sbagliare, bisogna cambiare registro, questo è in dubbio? Ah sì, lo sappiamo tutti, un punto in sé partite diciamo che per il Pescara non è niente, quindi ci vuole il cambio di passo, questo sicuramente, abbiamo parlato con la squadra, abbiamo parlato con la società, con lo staff, siamo tutti comunque convinti che ci risolleveremo e lo faremo da domenica. Tutti responsabili per quello che è successo fino ad oggi, allenatore ma anche giocatori, voi vi sentite chiamati in causa? Assolutamente, quando si fanno prestazioni negative comunque la colpa è un po' di tutti, ma questo lo sappiamo, sappiamo che comunque abbiamo fatto degli errori, ma siamo anche convinti e consapevoli della nostra forza, della nostra qualità e secondo me domenica si potrebbe riaprire un campionato che per molti magari io non la vedo così, magari è chiuso, ma io sono convinto che ci rialzeremo, ma perché so quanto sono forti i miei compagni, quanto è forte il mister, quanto è forte la società e perché ce la meritiamo, perché anche dall'anno scorso che ci portiamo avanti questo periodo un pochettino così brutto, io sto rientrando a pieno queste ultime settimane e sono molto contento perché posso dare una mano ai miei compagni. Sto recuperando, non sono ancora al 100% però l'importante è esserci e dare una mano alla mia squadra. La cittadella bestianera del Pescara nelle ultime tre stagioni, sei partite, sei sconfitte e ora di interrompere questo trend. Sì, i numeri sono importanti nel calcio, però domenica sei sconfitte con la cittadella, domenica c'è un solo obiettivo, quella è la strada. Cittadella è la squadra giovane che però ricalca la squadra anche delle passate stagioni, una squadra che gioca con poche pressioni e che spesso riesce a far male agli avversari. Cittadella, come tutte le squadre in Serie B, sono molto difficili da affrontare, però noi, ripeto, come ho detto prima, siamo molto consapevoli dei nostri mezzi ed è il momento di risollevarci.